A partire dalle ore 18 ci sarà l'inaugurazione di quest'opera che è stata commissionata al maestro Marco Lodola, artista di fama mondiale, che appunto renderà omaggio al nostro Ivan come era giusto che fosse e come da tempo anche i Terramani si aspettano. Quindi finalmente ci siamo, sarà un'opera permanente per la città di Teramo che ricorderà Ivan Graziani e soprattutto mettere in risalto quello che lui è sempre stato per noi, per i Terramani, per l'Abruzzo e quindi siamo molto molto contenti noi di Big Match di aver abbracciato questo progetto. A coronare il tutto ci saranno dei gruppi che partiranno dalle venti a suonare, a ricordare le canzoni di Ivan da lungo Corso San Giorgio fino a Corso dei Michetti e quindi speriamo sia una bellissima giornata, sono sicura che sarà accolto molto bene questo evento.